L'influenza di stagione non avrebbe ancora raggiunto il suo massimo picco di espansione. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità parla di oltre un milione di casi registrati nella settimana dal 18 al 24 dicembre con una incidenza da record pari a 17 casi per miglia assistiti. Un livello superiore a quello della settimana precedente e mai registrato negli ultimi anni. Dai 300 accessi giornalieri in pronto soccorso siamo arrivati anche a punte di 450-480 ingressi tra il 23 dicembre e Capodanno, dice all'ADN Cronos Salute Sebastian Cristaldi, responsabile del pronto soccorso del Bambin Gesù di Roma. Le nostre strutture durante le festività hanno lavorato con ritmi impressionanti per gestire piccoli pazienti, in particolare sotto i 5 anni di età, con problemi respiratori e febbre alta. Secondo il pediatra, i virus che circolano sono tanti e variano a seconda dell'età. Nella fascia 3-6 anni colpiscono duro influenza Covid e rinovirus. Sotto i due anni invece preoccupa il virus sinciziale che è la causa di 7 broncoliti su 10. La curva è ancora in crescita e con l'apertura di scuole e uffici i contagi aumenteranno, tanto che il picco influenzale è previsto per la metà di gennaio, dice Gianni Rezza, professore di igiene al San Raffaele di Milano. Inoltre, argomenta l'esperto, la discesa non sarà rapidissima e il virus circolerà per l'intero mese di febbraio. Per Alessandro Rossi, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie, si tratta della più forte epidemia influenzale degli ultimi 10 anni. Secondo Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, quella di quest'anno è la peggiore stagione influenzale degli ultimi 15 anni, ma anche nei precedenti 15 non si era visto nulla di simile.